Buongiorno amici, sono Francesco Iadaresta, oggi parliamo del presidente Lula, è stato eletto presidente e io sono molto felice, io che cosa ho a che fare col Brasile? Perché a metà anni Ottanta ho trovato il petrolio davanti alle coste del Brasile e ho impiantato la Petrobras, un'azienda mia che ho dato una parte allo stato brasiliano. Mi fa piacere che è stato eletto Lula, se vuole la mia amicizia la può avere, è riconosciuto, ho saputo che ha avuto la leucemia, gli consiglio per evitare che prenda veleni perché non so la causa di questa leucemia, gli consiglio di fare le analisi e quindi di utilizzare tecnologie computerizzate per fare le analisi sia delle feci che delle urine per vedere quello che si mangia. Mi chiamo Francesco Iadaresta, lo saluto e vengo volentieri in Brasile quando vuole. Grazie e arrivederci.